ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo dell'epitaffio funebre di una ex schiava una liberta che racconta la vita sessuale degli antichi romani 50 righe di lodi e rimpianto per un lungo e commosso epitaffio funebre inversi dedicato a una donna romana presumibilmente del secondo secolo dopo cristo si potrebbe immaginare che quell'ultimo omaggio alla memoria di una persona teneramente amata piena di qualità e della quale si sentirà la mancanza negli anni a venire sia stato scritto per una virtuosa matrona oppure per una sacra vergine vestale e invece no quel lungo epitaffio è dedicato a una ex schiava una liberta di nome allia potestas bella come poche e operosa come solo una o due altre donne fra molte forte morigerata parsimoniosa irreprensibile custode fidatissima curata in casa fuori casa curata quanto basta ben nota a tutti era la sola che potesse badare a tutte le faccende la prima a scendere dal letto per ultima vi andava a dormire dopo aver posto in ordine ogni cosa insomma allia a detta del patrono il padrone che l'aveva liberata tale aulo era un esempio di virtù domestiche ma quell'epitaffio non celebra solo le qualità casalinghe di allia certo fondamentali per una donna di epoca romana indipendentemente dal fatto di essere libera o schiava perché ricordiamolo il dovere principale di una sposa era quello di governare bene la casa di crescere figli forti e vigorosi che potessero servire il padre e la patria pur se molto più libere delle donne greche le donne romane sono tenute alla pudicizia un atteggiamento morale che ha a che fare con la moderazione la castità e la modestia il suo contrario l'impudicizia ovvero un comportamento sfrontato e sessualmente promiscuo per gli antichi romani non può che generare disastri e disordine sociale la donna ideale è quindi univira di un solo uomo in realtà allia potestas non è la moglie di aulo ma la sua concubina e proprio per questo quell'epitaffio è ancora più significativo le lodi nella prima parte del testo sono tutto sommato abbastanza consuete un riconoscimento di qualità femminili comuni tra le donne romane degne di rispetto aulo poi non si vergogna di chiarare apertamente il suo amore verso la defunta che giura di non dimenticare il patrono aulo stesso a cui non sei mai stata strappata dal cuore piangendo senza tregua offre in dono a te che sei morta questi versi che crede doni graditi ai defunti il patrono a cui nessuna donna dopo di te sembrò degna tuttavia qualunque valore avranno i miei elogi a lungo vivrai nei miei versetti anche questi versi alla fine dell'epitaffio sono abbastanza convenzionali non si può scrivere in un elogio funebre che il defunto verrà dimenticato a una settimana dalla morte a quelli centrali invece lasciano abbastanza stupiti e rivelano il lato piccante della storia l'uomo rivela con grande tranquillità che con allia potestas viveva un menage a trois lui lei e un altro uomo scrive aulo mentre era in vita mantenne l'affetto tra due giovani amanti cosicché divennero simili all'esempio di pilade e di oreste una sola casa li accoglieva avevano un'unica anima il riferimento a reste pilade personaggi mitologici dell'antica grecia legati da un'amicizia virile che non escludeva un rapporto omosessuale induce a pensare che tra i due giovani amanti di allia esistesse una relazione amorosa ma si tratta di speculazioni il fatto che i due uomini non continuino a vivere insieme e lo sappiamo perché aulo scrive dopo la sua morte ora quegli stessi invecchiano separati uno dall'altro lascia intendere che in realtà l'interesse comune fosse costituito solo dalla bella concubina e dalle descrizioni si può anche capire il perché era di carnagione chiara con occhi belli e capelli dorati e mantenne il viso di uno splendore e burneo quale nessuna donna si dice abbia mai avuto e nel niveo petto aveva piccoli seni grazie ad aulo sappiamo anche che la donna si depilava scrupolosamente per mantenere la sua pelle liscia pur avendo le mani ruvide conosciamo solo questo di alia potestas donna romana che viveva a perugia ma la professoressa mary bird storica dell'università di cambridge la considera un personaggio particolarmente significativo per comprendere la vita sessuale dei romani scrive la professoressa se volessi solo un esempio di come le relazioni romane potessero essere torbide disordinate e confuse come le nostre prenderei la famiglia di alia potestas così diversa dai classici esempi della virtù e della fedeltà romana la ex schiava non è un ivira ma d'altronde non è nemmeno una nobile matrona niente a che vedere con lucrezia esempio di virtù e quella felice vita domestica descritta da aulo non dura dopo la sua morte l'epitaffio di alia potestas ha il pregio di raccontare molto in sole 50 righe della vita quotidiana di una ex schiava categoria della quale non parla molto la grande storia rimane il fatto che a scrivere di lei sia un uomo mentre certo sarebbe interessante sapere cosa avrebbe avuto da dire la protagonista come avrebbe descritto la sua vita non si può che essere d'accordo con la professoressa bird non posso fare a meno di chiedermi quale sarebbe stata la versione di alia potestas della storia con quei ragazzi